L'Europa è importante per me perché significa coesione. L'Europa per me è la realizzazione di un sogno nato dalle genti che hanno deciso di unire le forze per riemergere da un conflitto mondiale. Nella mia opinione, gli uomini e le donne d'Europa dovrebbero votare il giorno delle elezioni europee perché questo sogno continui ad essere un sogno concreto e non si ritorni alle piccole dimensioni nazionali, prive della ricchezza che l'Europa durante tutti questi anni ha portato grazie all'unione dei popoli e di culture diverse. Per me l'Europa ha significato viaggiare, capire le diversità delle persone, accettarla e costruire dentro di me un'identità condivisa che giovava delle idee, delle culture e dei popoli diversi dal mio. Allora l'invito che faccio a tutti voi è di andare a votare e di condividere questo video affinché quante più persone possibili possano venire a contatto con questo sogno che è stato e che mi piacerebbe continuarsi ad essere l'Europa.